... circonda tutto ed è circondato da tutto circonda tutto ed è circondato da tutto buonasera ragazzi anche oggi su rivoluzione di parole c'è un contenutino veramente interessante per voi stasera parliamo dello zen e delle sue possibili relazioni con con la musica cioè lo zen può davvero servire a un musicista nella sua pratica quotidiana e mi sono chiesto questo voi direte rezzo ma doveva pescare ste robe no semplicemente il fatto che stavo rileggendo un libro bellissimo di ok vedete lo zen e l'arte del tiro con l'arco che lessi molto tempo fa a parte lo rovinato però a parte questo e lo lessi molto tempo fa e mi colpi molto perché è un libro veramente bello scorrevole piacevole anche da leggere che introduce un occidentale che appunto è cresciuto con una diversa mentalità rispetto a quella che viene spiegata qua nel libro e appunto a questa cultura millenaria che è lo zen questo video non è non si propone di spiegare lo zen entrare nel dettaglio vuole un po divertirci con questi concetti però almeno dobbiamo vedere qual è la definizione la definizione della tre cani si dice è una certa buddista contemplativa giapponese introdotta dalla cina nel 1192 che propugna la ricerca della verità attraverso l'estrazione meditativa personale al di fuori di ogni ritualismo o codificazione ha avuto larga influenza anche nell'ambito dell'arte che sostanza lo zen è un'attività pratica non fa riferimento come avevamo detto prima a codificazioni a istituzioni non c'è un libro sacro come nel cristianesimo per esempio che spiega delle cose che tu devi capire teoricamente la teologia la filosofia ecco tutte cose che sono frutto del pensiero razionale nello zen viceversa si auspica una come dire un dissolvimento del sé un di meno una dimenticanza del sé a favore del tutto è tutto e niente è tutto è niente è niente è tutto un esercitarsi a uscire dal proprio ego a non sentirsi un individuo solo completamente diverso staccato dalla realtà che ti circonda ma semplicemente essere parte del tutto il maestro gli diceva sempre che sostanzialmente il bersaglio non era una cosa esterna a sé ma lui coincideva col bersaglio che lui doveva allenarsi a non scoccare la freccia ma la freccia si scocca da sola e quindi praticamente gli poneva una serie di paradossi che appunto servono nella cultura zen a farci uscire dal pensiero logico questa cosa dico è veramente difficile secondo me per noi occidentali che siamo cresciuti in una cultura dove invece ci porta all'individualismo sfrenato e dove spesso noi confondiamo il nostro individualismo con qualcosa che invece è assolutamente indotto ma veniamo al punto veniamo al punto su noi come sempre mi perdo in chiacchiere dopo gli utenti non stanno abbastanza sul video quindi vediamo cosa possono avere a che fare con il nostro fantastico modo della musica delle band dell'indie e quant'altro allora una disciplina quindi abbiamo detto si basa sulla meditazione che è una disciplina è un ripetere meccanicamente in questo caso una posizione nella musica potrebbe essere accostata anche alla disciplina che una persona fa per acquisire i gesti meccanici che gli servono per suonare esempio io appunto ripeto centomila volte una scala fino al momento in cui questa conoscenza la è come se razionalmente la disapprendessi poi più invece più direttamente potrebbe essere quella di provare a meditare prima di un concerto sono sicuro che molti artisti già lo faranno ma è senza senz'altro una cosa molto utile perché l'idea di allontanarsi per un attimo dallo stress da quello che pensano gli altri di te dalla tua soggettività dei dubbi che hai rispetto al tuo ego e tutte queste cose qua cosa qui mira appunto la meditazione zen senz'altro ci aiuterebbe di ad andare sul palco molto più centrati convinti e concentrati e quindi ad evitare tante volte sbagli brutte figure legate all'ansia all'emozione a tante cose che non riusciamo ad esprimere l'utilizzo del paradosso come ci può servire questi paradossi che negli insegnamenti zen ci troviamo spesso davanti ci possono servire perché questi paradossi servono lo zen come anche nella vita quotidiana ad uscire dal pensiero logico quindi non è tanto importante che noi ci diamo una risposta e dimostriamo la veridicità intellettuale di questi paradossi l'importante è che riusciamo a capire che ci sono certe cose che non si possono capire con la razionalità il paradosso ci aiuta a uscire da questo schema logico per questo è viene viene usato appunto negli aico come diciamo prima in questi belli compagnimenti poetici ed è molto importante secondo me per sviluppare la creatività la base del processo creativo spesso c'è appunto la rottura di uno schema di un in una logica precedente detto ciò ragazzi satori il risveglio abbiamo detto satori vuol dire il risveglio quindi c'è quest'idea che da una inconsapevolezza a un certo punto tramite la meditazione esiste questo risveglio questo satori è tutto un cambio repentino divisione del mondo che viene attraverso ovviamente anni e anni di pratica della meditazione da zen in un certo modo anche la musica ha il potere di risvegliare qualcosa dentro di noi il linguaggio musicale è un linguaggio astratto quindi che noi non possiamo tradurre in parole ma che senz'altro ci comunica molto e tante volte quando ci risveglia delle emozioni dei ricordi o delle consapevolezze che non sapevamo di avere quindi è bella quest'idea di pensare alla musica come qualcosa che va oltre il semplice divertimento il semplice entertainment come si dice oggi concetto di tempo qua e ora l'avete già sentito il classico carpe diem cogli l'attimo sembra una banalità ma è davvero così a segreto non solo dello zen non solo della musica ma anche del della vita della felicità in generale la musica è senz'altro l'arte che più è interessata da questo concetto perché obiettivamente quando noi suoniamo dobbiamo per forza essere nel tempo presente non possiamo pensare al passato non possiamo pensare al futuro o meglio se lo facciamo senz'altro sbagliamo o non suoniamo in modo espressivo o non si capisce perché stiamo suonando dovremmo fare altro ecco quindi ragazzi questo sì qui e ora c'è la musica ci aiuta veramente tanto in questo senso e dimenticarci di noi stessi per entrare in contatto con il tutto ragazzi dimentichiamoci di noi stessi dimentichiamo questo ego soprattutto per noi artisti lo dico cioè per tutti sarebbe utile questa quest'idea ma per noi egocente ci spacca maroni che siamo artisti è veramente importante e soprattutto non abbiamo sicuramente il rischio che a un certo punto perdiamo completamente il nostro ego nel tutto questo vi assicuro che non c'è il dubbio quindi facciamo proviamoci almeno qualche volta a fare questa pratica dimentichiamoci del nostro nome e cognome della nostra storia della nostra faccia delle nostre idee e cerchiamo di capire il tutto com'è di entrare in questo flusso cosmico di essere un'onda di essere un filo d'erba spostato dal vento e immaginarci proprio così spesso il nostro egocentrismo ci porta a non vedere al di là del nostro naso diciamocelo tranquillamente un concetto invece interessante è il concetto dell'eterno principiante allora se vi ricordate ne avevo già parlato e avevo fatto una citazione a un video di mercadini che parlava di donardo come eterno principiante e questa è una cosa fondamentale nel campo artistico sia musicale ma anche nelle altre arti perché l'idea di non sentirsi arrivato fa in modo che si cerchi sempre appunto di come dicevamo prima di rompere il nesso logico con il passato trovare nuove 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 alternative nuove soluzioni nel momento in cui invece ci siamo ci sentiamo perfettamente a nostro agio in una in un'arte in una tecnica e quindi nella nostra zona di comfort di solito smettiamo di innovare smettiamo di andare oltre e ci concentriamo più sul manierismo quando messo rituali non ne voglio di parlarne il mondo lo zen ma la musica stessa è formata da diverse parti di cui noi abbiamo senz'altro un ruolo però dobbiamo sempre ricordarci che noi siamo parte di un tutto più grande di noi sia appunto quando pensiamo alla nostra esistenza ma anche quando siamo all'interno di una band di una situazione in cui ci sono altre persone che stanno suonando quindi noi dovevamo cercare un'armonia con quelle persone se non ci piace quello che stanno suonando non dobbiamo suonare con loro se no dobbiamo assolutamente vedere l'esterno vedere ciò che sta fuori di noi fare meno less is more si dice dappertutto sembra una cosa di moda sembra una bicchiata buttata lì è invece davvero così ho esperienza anch'io ho suonato diverse volte con musicisti che non riuscivano a non suonare per una battuta di una canzone sempre suonano sempre non riescono a fare uno stacco a pensare a dare respiro a rifare le notte no sempre un riempire 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 questo crea spesso molto spesso ridondanza e scarsa originalità chiaramente ci sono dei modelli che già funzionano e quindi tante volte funzionano ma sono poco originali proprio perché si basano su questo esagerare questo voler riempire i vuoti mentre i vuoti secondo me sono molto importanti nella musica e più sono valorizzati più anche tra vivete i pieni tutte le parti suonate risaltano diventano più potenti ancora devi fermarti ascoltare ascoltare e ascoltare quando hai capito come funziona con la musica cosa serve a quella musica per essere valorizzata e soprattutto quali sono le note principali essenziali a quel punto potrai sbizzarirti nella creatività perché avrei capito i limiti entro i quali ti devi muovere per essere armonizzato con il tutto essere utile agli altri generosità in certo modo lo siamo perché regaliamo senz'altro il nostro tempo la nostra passione i nostri sentimenti le nostre idee attraverso la musica che facciamo ascoltare le persone quindi se anche solo una persona o dieci persone o mille persone ascolta la nostra musica ne godono senz'altro abbiamo donato qualcosa e un'altra cosa importante non attaccamento alle opinioni ogni musicista ha le sue opinioni giusto ai suoi gusti alle sue tecniche ha imparato alla sua musica preferita è giusto e importante però ricordiamoci che non è questo che fa la tua identità scegliere qualcosa non vuol dire identificarsi con essa quindi se magari una determinata pratica musicale è sempre andata bene fino a questo momento non vuol dire che nel progetto in cui stai suonando ora possa andare bene quindi deve essere non attaccati alle proprie opinioni ma essere disposti anche a mettere le discussioni oppure comunque a vedere le cose da un altro punto di vista questo senz'altro ci fa crescere sempre in ogni caso come uomini prima di tutto e tanto più come musicisti andiamo avanti velocemente ragazzi allora fai c'è prendersi cura della rabbia e vita sana fondata sulla compassione allora questo importante però non saprei bene come mettere in relazione con la musica anche perché subito mi sentono la mente tutti i gruppi mettersi incazzati che parlano di morti suicidio ammazzare la merda i scia in realtà fa di di questa cosa alla sua forza quindi non so quanto ha senso consigliare di ben desiderio dire no incontri con la rabbia così magari premi di 20 mosche per il pubblico quelli capisco in questo caso per questo motivo salterò a pie pari questi due punti e arriviamo all'ultimissimo anche se no dopo diventa veramente lungo questo video vera comunità e comunicazione quindi la comunità quale può essere all'interno della musica è proprio la band stessa cioè vedere la band come una comunità e non semplicemente come un insieme di elementi messi lì per arrivare a un obiettivo a breve termine quindi visita una canzone o far una suonata è importante appunto creare un'idea di comunità e soprattutto un'etica della band se ci sono dei valori che gli elementi della band devono per forza condividere per diventare una band forte chiaramente non parlo di successo ma quantomeno per avere un'identità forte creare una musica secondo me belle efficace culturalmente interessante molte volte ha visto appunto il formare le band in base o alle conoscenze personali c'è mio cugino che sono al basso ma si di divenire oppure c'è quello lì che è bravissimo perché ha vinto il master di miglior bassista dell'oklahoma allora così però se poi quella persona non si integra in questa piccola comunità chiaramente quella sua bravura andava sprecata lui si romperà le palle detto questo ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto vi sia interessato ditemi cosa pensate dello zen se secondo voi ha senso questo accostamento quindi se può essere utile davvero avere pensare ai precetti dello zen a come applicarli alla musica se ci avete già provato oppure se ci sarà sicuramente qualcuno che l'ha fatto in modo più serio approfondito di me magari segnalalo se ne sai di più niente mi raccomando ricordati di attivare la campanella perché sennò non ti arrivano le notifiche e ti perdi queste bellissime perle di saggezza che vuoi rinunciare a questa robina qui dai scherzo ragazzi detto questo vi saluto e ci vediamo mercoledì prossimo rivoluzione di parole ciao